Ed eccoci qui, quasi sul bagnasciuga della spiaggia di Riva delle Etrusche per iniziare il terzo giorno per raccontare un po' la giornata di oggi. Adesso è già l'orario di serale, cioè l'orario di cena, ma andiamo a vedere... Adesso vi voglio far vedere una view dalla doccia, perché qua su, questa view marittima, che non è niente male, no no, e... Ah, mi metto qua, ecco. No, oggi abbastanza in un istante, volevamo andare con il gruppo, con il pedalò a fare un giro, ma intorno alle tre c'era un grande vento, una grande corrente, e quindi abbiamo dovuto lasciare perdere il pedalò. Però siamo riusciti a fare un torneo di pallavolo, nel quale ho vinto con la mia squadra, quindi qualcosa di un po' importante. Per pranzo ho mangiato con la mia famiglia, ho preso un bel panino con dentro di tutto mozzarella, pomodori, rucola. L'ho creato io, dopo che con la materia prima, e poi ho assemblato il tutto. Quindi questo è stato il mio pranzo, poi il desertino, con dei piccoli bomboloni e un bel gelatino, un bel cono gelato, che era molto buono. Musica Non so se vi ho mai fatto vedere la trasferta dalla spiaggia a casa, quindi colgo l'occasione in questo video e vi faccio vedere come si va da qui, dalla spiaggia fino alla villetta numero 109, quindi buona visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!